Ciao a tutti ragazzi, qui Caldo e bentornati in un nuovo video Oggi siamo in 2Q con il caro e buon vecchio rotto in culo Fillo di una puttana di Fabiez Giusto? Non risponde, non risponde e si vergogna ragazzi, è timido Comunque siamo nella Rot2Diamond da parte 9-8 credo Ciao, ciao a tutti, scusa, stiamo a ti fare mutato Bella, bella, ciao a tutti No, non eri mutato, ero rotto nel culo Chi è che ero mutato? Non di cazzare Hai sentito cosa ho detto allora? Sì Cosa ho detto? Che c'è una mamma troia Ma la pagina tipo League of Legends Italia di YouTube Tipo c'è una fa Chris, ma tu madre quanto è troia? Ma non è troia Ti fa certezza che si mette a ridere E poi c'è anche un meme su di te C'è anche una cosa su di te che dice Ho più cromosomi degli iscritti Esatto È stupendo È stupendo Dove è che League of Legends E io Meme, Meme Italia tipo Meme È proprio qua, League of Legends Italia meme Eccolo qua No, eccolo qua Tipo ti asfalto le obaie Sì, è stupendo quella Ha messo a Slack tipo tutto live Di mostracci Sto cuglione deve pigli Invece di pucciare il biscotto Sta qua Nerda tutto il giorno Nei commenti l'hanno scritto Ultimo io lo stilo Cosa? No, no, no È una foto È una foto È una foto tipo 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 un meme Tra di tua mamma No Di tua e tua mamma Ma che dai L'hanno fatto? Sì Ma che merda c'è Te lo meriti Te lo meriti Così mi fai vedere Quella milfona in live Oh mio Ma lo sapevo che è andato A vedere Mi fai I Don't Mind Ho Crittato la Zyra Guardi Ho fatto 103 con un critico Zyra Ho spaccato È tornata indietro Guarda Guarda Madonna Demorgana Oh C'è sto Rengar Che è full AD Cioè Full 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 Non ha armor Non ha magic Ad E basta Ma tu te li hai fatti I campi Con lo smite Al 2? Eh no Perché ero FK Ti ho detto Sei un po' un coglione Però Eh È un po' Ti parlato da risiore Più tardi Tanto c'hai Lo smite Maxa di lei Maxa di Ah no La FW No Eh lei me l'avrei maxata per seconda Vabbè Vado a rubare Questi qua Il campo qua A J4 Vado back Torno col TP Smite Smite rosso vero? Regolare Regolare Do farmi con lo tank però Certo Fabbiz è la top play Partivo Questo io Zera ha chiamato Fabbiz è la top play Partivo Ah Problema Ah Boh 3 o 4 poze Questo Rengar Potrebbe essere Ah Problema Zera che c'è Ignite Zera quello exhaust Non se lo vedo Ragazzi Se giocate Zera support Deve mettere Ignite Suntere Lontag ... ... ... ... Suna Che cazzo stai a fare? Morendo Ma fa bocca Rengar Secondo me dopo aver ammazzato Rengar Arrivano tutti gli animalisti Mettono dislike Ma il TP? No, li ho ripusso anche questa Faccio un trick ragazzi Che neanche la sesta mi viene Neanche? Ok, good Dovrei avere questo Ok, perfetto Guarda, guarda Zyra Dove sei? Guarda Zyra Grande Zyra E io sto qua Quella starà a livello 1 per tipo 20 anni Ma guardalo Ma come faccio? Oddio, e ora? E ora Zyra come faccio? Ok Ma quindi adesso ogni volta che ho lo smite up Mi conviene arrasarlo E fargli un sacco di danni Perché il smite rosso è più lei E gli faccio un sacco di danni Esatto Tu mi stai di questo E il rusho? Botrk? I trinity? Varei Hidra? Cosa faccio? Ma traccalo Lo vado subito C'è Gins? Really? C'è Gins è una cogliona? Vabbè lasciamolo sta Eh ma stai Lo sono tutti coglioni Cioè Io ho compreso Mai ignorato Mai è down Ignora il support Boh La gente non è normale La gente Isn't normal Ma forse non hanno capito Che Non è che se flammi Perdi le ranked Ed è che se giochi di merda Perdi le ranked Eh sia Però ovviamente Gioca del merda e flammo Almeno io cerco di giocare bene E flammo Capito ragazzi? Cosa? Poi siamo Villatino 4 In questo accanto Non so chi ha seguito la live Ma se voi venite Da seguire la live Che trovate sempre in descrizione Il link Cane in live Oggi Stasettimana Si è fatto tipo Mille subscriber Non vorrei dire Ma tipo ieri ho streamato Per 7 ore ragazzi Comunque Vi volevo dire Che questo pomeriggio Sul canale Troverete un altro video Alle 7 Fatto in compagnia Di amici Quindi Mi raccomando Che hanno il loro jungle Malfight Oh Certo Ma vai sopra la Q Puttana Oh mamma mia Rip Rip Senti Se ti mettessi Tipo una world dip Qua Guarda Ce l'hai il capide Io Io Eh no 40 secondi Guarda carazze Che abbiamo fatto a quello Buonissimo Oh dai Ginex è morto Ma su app O che coso Ma vabbè Tic 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 Ok È morto Ginex Lo so chi l'ha da solo Ginex Rip Guarda se ti pitiro Ma perché hai cambiato il tuo nome Se ti pitiro In excepto Eh no 16 secondi ancora Ma bene Perché è figo Occhio TF Ah ok T'ha visto C'è il Giorgio Eh c'è È passato con Giorgio attivo Quello Neanche se ne è accorto Guarda 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 Ma porca E per seconda Max ha avuto Doppia ovviamente Vero Certo Ok perfetto Rengar è andato Ah no ok Penso forse è andato FK Coraccio Non lo stai Troppo Diciamo Annientando Stai asfaltando le ovaie Come qualcuno Modestamente È il mio hobby Fini da piccolo Adesso il prossimo nome Air Asfaltatore De ovaie Air Lo smart si chiama Asfaltatore De ovaie Air Asfaltatore Ma non credo Che c'entri tutto Air Asfaltatore Asfaltatore De ovaie Comunque ho aumentato La qualità Ora invece 1500 bitrate Ho messo 2000 bitrate Ma allora Questa fibra Ma Lo sai che è successo Allora ti spiego Quelli al piano De sotto nostro Ce l'hanno la fibra E tu no Allora ti spiego Perché loro hanno un numero vecchio di 40 anni Di telefono Allora E Io ho detto Scusa ma che vuol dire che io non posso mettere la fibra Perché c'ho un numero nuovo E no perché via delle cose Tu Allora Ho chiamato E ho detto non posso cambiare il numero Mortacci vostra E fa ora vediamo se ce ne abbiamo disponibili Dei numeri Vabbè E poi E poi se mi danno il numero vecchio C'ho la fibra Cioè scusami Tu hai il numero nuovo E non puoi avere la fibra Sì perché è direttamente collegato alla centrale Ah e tu sei collegato a Vabbè Ma questa Questa è una puttana Gizzo una cazzo C'è un cazzo Mi serve eh Se ti puoi guardi dip Dip Voglio una guarda dip Ma mi ha bloccato questo Guarda che gli faccio eh Ti ho guardato T'ho guardato Ma le ho guardato Te l'ho guardato Te l'ho guardato Ti pittora se vuoi Ti pittora Ti pittora Dove? Tu fai lo smite Se cinta quello smaggia ho io ancora l'ultimo cioè se ci vai io devo regalare devi regalare ma mi è cannellù regalare regalare ma regalare ha stimato una volta ma è un troll secondo me perché ha usato un po' il programma per cambiarsi la voce e via dici eh si guarda jeans guarda che coglione è morta oddio jarvan ha salvato jeans ma magari non c'è andare così daipa figlio di una puttana e jeans è stupida meno male che sono lo sniper sei uno smart dai coglione c'è pure il rosso dai coglione dai coglione che c'è pure il rosso dai coglione che c'è pure il rosso dai coglione che c'è pure il rosso dai che c'è pure il rosso merda ho felato ah c'è malfight ah no non con malfight aiuto usa lei qui sta è un cooldown che fine ha fatto rango land ma te ne so io non l'ho mai seguito rango land no 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 rango il mio rango tu quanto sei uscito hai su di 70 anzi 69 però presidione mamma mia e adesso cosa voglio farmi come cioè adesso lo faccio subito randwin o... eh non risponde, è la seconda volta che te lo chiedo tua madre ma se le Rengar lo stai asfaltando no? eh vabbè c'è Grace e... guarda gli hai fidato di loro e fatti un item che tui coglioni gioco più con te, non ti gusto più certo no intanto Z al 0, vabbè eh sto carriando vieni qua puttana taran 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 parte l'uno verso uno fa melico attenzione attenzione guardatelo guardatelo signori signori attenzione Rengar regalo qua regalo Rengar regalo qua Rengar signori lo prendo in volo Rengar che bait no ho flashato ahahahahah oh Catarina se non te lo killi ok vabbè shiv too strong ok MFF vorrei sapere ragazzi che se tutta l'India stanno a fare un lavoro decente e shivana è fidata la partita chi è contro la può vince contando che poi il nostro Ticari ha 5 morti su 8 me vale qualche domanda andiamo a farci error al campo dai giungla guardate che Z non c'è flash no rip mi sa proprio ma io so c'ho un herpes qua non c'è qua ma tu fatti c'ho fatti full ap cazzo di herpes qua porco prima faccio la zonia ma chissene eh cosa vuol dire su chi è il cazzo di negri andiamo prendi l'herpes ah perchè quindi come c'è l'herpes su chi è il cazzo nero eh si se c'hanno i neri l'herpes eh se c'hanno i neri l'herpes se c'hanno i neri l'herpes eh vedi che sono su chi è il cazzo di vicenda ok e poi è bianco però sempre passivo dici ah bravo ha preso i soldi della vuota ah ok guardi gank guarda i rom guarda i rom i rom perchè non so ooooooh ooooooh ok fallato tutto torna top io ho il tp tra 20 secondi cioè quindi posso utilizzare il tp per il drago c'era quanto? 20 secondi 16-15 ecco stai saltando stai saltando dalla soccata wow i big salti di Rengar guarda i df oh tigede tigede doc oh ha fresciato rip guarda che faccio eh innanzitutto lo restiamo un paio di doppio a vu innanzitutto facciamo il proiettile che rallenta e poi senza vedere se ci vanna Fabio non lo speglici vai 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 mi è addosta a qualcuno la prossima volta stai saltando se vuole mi chiudeva dentro oh sto attaccando la torre tipo da 20 minuti basta che palle guarda sei un coglione si è saltato in mezzo si è saltato niente sei più per me eh vabbè K che paga che è poco rip e' il cocco paga ma dove vai OH EA supposed want Tsupplu aaaah v�� il cocco ma regalo è un coglione ok che è grazie tuttai ma ora doighi insieme Ma che c'è di Toppo? Ma questo è un coglione Che che è un coglione? Top main Questo è proprio un coglione Martino Just deserve The bronze No perché ho messo his Che cazzo lui è? Ma che cazzo ho messo? Vabbè C'è il drago Grazie, I don't care Tu guarda che io tu c'è il TP Guarda la volta ci sta qua Già ma ma che cazzo fai? Se la rimetto così mi rompi il cazzo Io intanto prendo la seconda top Guarda qua dentro guarda Guarda Vieni Vieni Gervan Vai dipinta pure No è vero non ti panto Dai dipinta qua Dipinta qua Basta, 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 vai la dito, vai la dito, vai su Zyra, la vado di ult a Zyra, oddio, Gerva, non sai scherzà, fatti a sto drago, guarda quella che c'è ultima, in effetti è culta, vuole portà fuori lui, guarda qua, Jeans e Tard, Gerva è un coglione e Catarina è andata contro tutti a buffo, C'è ancora più down, matchmaking of down questo, non c'è, Boh, perché non è worth farci il drago, tipo, shotarlo e poi andarsene via, no? Però, meglio attancarcelo, scoperto, trant'anni, trant'anni, e starcelo, vabbè. È stupido, questo qui... Tutti i bot, no? No, no. Ah, in questa partita, lo sa, è abbastanza divertente, ne andavo facendo qualcosa... Questo Jits è proprio down. Comunque su Staccount, ragazzi, mi comprerò Gnare. Mi comprerò Gnare, quantesimo. Beh, Davy, adesso è con la Black Leaver 9, qualcosa di più strappo alto. Oh, babe, tu vuoi pure... No, perché col main non è che posso fagnare full D, pass, è capito? Qui c'è qua, posso fare full D. D, Triforce, Mullet, Last Whisper. Guarda, Zaga! Guardalo qua. A Zaga! Ah, vabbè. Ehm, vabbè. Ehm, vabbè. Ehm, vabbè. Molta. Vabbè. Go! Vabbè. Vabbè, 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 vabbè. Vabbè, Vabbè, i dueiter. Ok, ottimo, va a fare un mok Ma comunque questo è un bug, io ho flashato l'ulti di Rengar e che è successo? Mi è salto addosso lo stesso, però qui, mi è salto addosso, io stavo qui Hai visto? Ti è ammazzato, sì, sì, l'ho visto Allora, a questo punto io dico, se devi far far bug fatto bene E farlo proprio teletrasportare da me, ma no Voi l'ho fatto prima che saltasse, capito? Sì, 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 eh vabbè ma appena salta lui ti fa il danno, quindi puoi anche sceltare Se me l'ho fatto prima che saltasse, cioè lui ancora dobbiamo saltare Ma che potremmo far qua? Non è successo oggi, così ho la visage Vai, 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 non c'è il flash questa Oh Oh, cazzo Ma vada chi l'ha quello? Oh, se non entro nel bush, sì Oh, io lo aspetto qua Eh, eh, vabbè 70 metri di salto Qualcuno viene, siamo al fight, no? Eh, io vado bot, che c'ho il tp Sì, no, vengo direttamente qua, eh? Oh, oh Arrivo, arrivo, arrivo Ti risale ho magari Sì, adesso Dai, un altro attacco Vabbè, niente Mi aiuto, qui c'è un problema, io sto Io sto Molto, molto Dove che adesso stavo? Dall'altra parte? Sì Facci, facci gli ulti dtf poi, eh Qua dov'è saltare subito Eh, ancora, ma l'ho usato prima Ah, no, ho usato tutto Ok Catarina Ecc, infiniti C'è, risalta subito quando ho tasto un altro df Beh, sì Dovevi prediktarlo Fabio, no riflessi, ragazzi No riflessi Sì, c'è cosa Zyra con un aliand Mi ha fatto piena del df Ah, no, è meglio un turno Fate una tormella Tonto 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 Che lo è questo stato, porca masca Ma, ma, cioè, non è la tormella i danni Perché, cioè Di a dia non ha in garca Vabbè, no, perché Però non fu cussa me Ma perché cazzo quella cellulina dei king e jeans No, no, non mi ha detto E Grace, che non ha danni Grace è stato fatto Se sono jeans E con tutto che l'aveva stato lì Allì io ho stato lo è questo E Grace Fate questo Cogliona Ti fai questo Venga rano Per chi Si sa dove l'aveva prese Eh Aspettato Venga rano Rangaro urtato Ok Pronto, perfetto Abbiamo un rispito Un rispito Questa, no? Via, via, via GG What? Che ti ha fatto morirci? Eh, non dovevo essere fatto col tir Bomb Tormail Faccio la warm up Ok, se mi farei Tormail e Guardian Angel Mai Guardian Angel Mai Perché? Perché è un item inutile sul shivana Tu lo devi regge il fight Non ti serve Respona Per fare qualcos'altro Tu devi regge Quisalti minuti C'è l'angelo Ti serve se sei uno che fa danno Che se responi Poi fa ancora danno Con shivana Una volta che stai responendo Sono tutti morti Dove che fai? Che tanki? Se ci killano subito Beh, facciamo vedere Cazzo Oh, ma Caterina è italiana Sì Fisica pura Te l'ho detto anche prima C'è un select Mi sa che è il mutato Boh Oh, Gizze sta bot Vedi, stava tutto Nessuno si gruppa C'è il team che tra lo so No, caderemo Caderemo ancora Non ce l'ho Caci C'è il tato quello Ah, c'è C'è Mia mia prima Che ci fanno la combo ulti Io su chi vado? Su... Gravese? Gravese Gravese anche il Zaya se vuoi Ma non ora magari Ma se no tu sai che fai Pili jeans Pili Stai dietro? Sì, sì E tu cosa fai? Tutti tutti butti dentro? Sì Iscritto io Rengar bot Ma se ti posso pushassimo qua Guarda, quello va back Gravese è bot Non puciamo prendere Non mi chiedo a Gravese a sto punto Non mi chiedo a Gravese a zero Hai split in forfarmer Cazzo, ho 28 minuti Devi farmare Devi farmare 20 minuti fa Guarda, guarda Ok, io tipo ne ho tre qua Io ho i tre carry Cioè Catriona, mi mostra subito G-stop Ma potremmo anche se non da questo Mannaggia a me quando non mi lasciano Il cazzo di Safford Care this dick Guarda, c'è L'odio che si sta creando Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda E prende chi? Best ulti, boys Non mi sa fatbar Intanto con Gioce c'è la drummo fa Tranquillamente C'è la drummo in the game Easy peasy E però lo sanno They know Oh, Zyra bot Lasciarei morire, cazzo Fatevi il bar Fatevi il bar Ci penso io a tenere a lui Fatevi il bar Bravo Ce l'hai preso Dele, hai preso Eh, sono a un livello più alto di cosa Grazie al dash Leva la ulti Oh, ma che down Cata Ma qui c'è sempre l'ial Dai Ti ho sentito un altro attacco Faceciare in tupla Chi che mi ha fatto con i tanti danni? Graves No, niente la Swissper Voglio immaginare che non abbia la Swissper 3x4 E Giggs fa bot Vabbè Nel secondo punto Segui Giggs C'è sempre una ritardata Che io posso uscire da solo tranquillamente Allora, fai quel cazzo Che ti pare Sì, è un minio T'ho portato mal fatto Oglione Tf ci muore, no? No, ci muore Giggs, però Giggs Morta Caterina ha usato la zona in base, guarda È proprio italiano Ma sono, ma sono gli italiani che non sono usati a Caterina Non crescono come funziona Non c'è più, è così facile da utilizzare Ma guarda, non c'è AP Non c'è AP, Caterina Ce l'ho più io Tra poco Allora, per vi tirare una Q Si fanno un assist basso Dopo di continuare a fare le tasti a caso Ora sai due che ti li fa? Cosa farmi? Fattate di rinforzo Oh, Black Cleaver Adesso? Sì, ti serve danno Vi faccio la botte che? Caterina Tanto La mia tastiera era pazza È italiano questa Fa Che coglione Come fai ad essere così stupido? Però C'è potete tranquillamente andare più avanti e andare via Senza che Rischiavi di regalala Cioè, Rengar è 12-7 Rengar è un ritardato di merda Quella che c'è Ma è che c'abbiamo anche noi ritardato qua, Jinx? Gli opposti si attracco Rengar è un ritardato di merda Devi stare appiccicato a Jinx, te Ok? Ok Nessuno che c'ha trattato il suo grido per anger Solo odio Tipo ora prendessi un binder così alla cieca Su qualcuno Tipo così Io devo buttarmi? No, no, no Figurate No, ma no, no, no Perché cazzo? Lascia lì Ah, dai Santo Quella appena vedo la Vole morto, vuole morto Guarda, guarda, guarda Non mi fa E non mi fa Nanzoni Mannaggia la pottana Ho voltato Rengar Se fosse un fight della madonna Rengar sarebbe morto Guarda quest'altro Ma che cazzo è? Continuate, continuate, regà Che faccio? Vai Ecco Caterina Caterina vai Non farmi morire Caterina non fa danno Guarda Jinx attacca la pianta E non lo so, ho visto Cioè Jinx poteva vincere sto fight Attacca delle piantine Io non ce l'ho bisogna Perché non mi... Non c'è un lato Qualche merda No, l'avremo Mentre fight Perché la Jinx attacca le piantine No Comunque c'è una cosa Guarda di Caterina Non fa veramente danni Oh, Caterina non fa danni Guarda Fatti Lego Sì, misclick Sì, 3 volte misclickato Quanto ti riesce a dare down Mi scliccare 27 volte Sai, ma mamma dice che sono un bugiale Guarda di F No, non serve Alla Fio di una puttana Ah, posto Ma non è... Non è italiano allora Build Ecco Fisica pura Che cazzo ne so Mia mamma Ma mamma Che cazzo è stato di questo? Perché se... Se però... Non so se sanno Ce l'hai tipo di idea? Sì Alla, lo sai che gli hanno fatto? Gli hanno aspettato tutti i bot Push i bot Vai, aspettato tutti Va bene Ah, Vio Maria Va via, va via, va via Quella è morta No Perché avete fettato? Disvalloro Vabbè Cannone Io ci partirei Ok, non più Lui ci ammazza di Tormali da solo Chiedo, lo giuro Ma che cazzo Oh, ci vado? No Dai, ma quanto sei serio Adesso dovresti fare No, è mercurio A questo punto Oh, regala E ti chieda dopo Se ce la fai Eh, aiuto Thanks Oh, c'erano insomma Eh, non ce l'ho dato prima Dici Mercury Sì, sì Non so Forza Cioè, non riesco a capire La cazzo di E Perché Ora che arriva Jinx C'è sto fagioccio Ebbene, sì È pronto a fermare Jinx è un chiaro esempio No, via, via, via È ferma È ferma Ma quant'è mai? È finita la build Sì È ferma Che cazzo di ferma? No, perché devi far vedere Che die Che pasta? Sempre ferma c'è 280 mila Solo Ah, mo pinga, sì Martacci tua Aspetta, io vado perché È intorno col TP Ce l'hai le 1000 e 1000 full C'è il quarto drago pure Oh Oh, guarda l'angar Oh, stiamo vicini Jinx, non ti allontanare Mettilo, guarda, mettilo, guarda C'è sta la foto qua Non muore Non muore quella cosa Che cos'è? Mamma mia Jinx Non muore Madonna, così mi danno anche di strette Vabbè ragazzi, io comunque spero che il flame vi sia piaciuto Vi faccio vedere molti commenti Mamma mia, sta Jinx è una puttana di merda Cioè, veramente Meno 14, mi si muore, portavo qua Una coglione Vabbè ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un bel like Mi va, commentate e condividete Affaccio a tutti i ragazzi di cani, lupo Bella, ciao a tutti Ciao